bella a tutti i forniters benvenuti e bentrovati su leontube eccoci in questo video per andare a vedere il potere della terra eccolo qua lo equipaggiamo eccolo qui dominio della terra arma mitica si trova anche in giro io questo l'ho trovato in una chest abbiamo soltanto 5 utilizzi ok lancia un mattone che poi si ricarica ok quindi abbiamo cinque volpi vediamo ok perfetto abbiamo questi cinque colpi non corre più veloce non sappiamo quanto toglie ora vediamo se troviamo un giocatore andiamo a vedere il salto è lo stesso possiamo fare un muro di però eccolo qua uno scudo a che ci difende perfetto allora lo scudo di roccia però dobbiamo aspettare 10 15 secondi adesso non ho visto però è una una sorta di difesa con zl e lanciare la roccia con zr ora vediamo se troviamo un avversario un giocatore no ok l'utilizzo del muro però non ha dei secondi ma lo fa usare ogni tanto sì non si vede il timer però vedete ecco ora si può usare sono 15 secondi e quando ne facciamo un altro scompare quello di prima perfetto mentre il equi l'ha usato anche qualcun altro perché vediamo che eccole qua uno vediamo se per caso lo distrugge no indistruttibile ah no si distrugge ok perfetto vediamo se riusciamo a trovare qualcuno ormai siamo a fine partita sarà molto difficile e soprattutto potrebbe essere difficile colpirlo andiamo ad attaccare le guardie della torre che sono proprio qui dietro eccole la ok così abbiamo il nostro muro che è 85 due colpi qualcuno che sta sparando non so dove era comunque abbiamo visto che toglie è una buona arma e niente questo è un po tutto il suo gameplay se il video vi è piaciuto ragazzi mi raccomando un bel mi piace e iscrivetevi al nostro canale ciao a tutti